In quanto recente iscritto il PD, non parlo come PD, ma parlo come ex dirigente di Articolo 1 e infine dell'Associazione Compagno del Mondo, anche perché a tutte le OPD ci sono che sono i diritti o i diritti. Noi di Articolo 1 abbiamo preso questa decisione di scioglierci per partecipare alla costruzione del nuovo PD che sia in un certo senso perno della coltivazione di un campo largo, di un campo ampio che coinvolga il più possibile le forze di getto sinistra. Senza questo e senza mettere al centro le idee al proprio operato politico, avevamo sempre ritenuto che non c'era una prospettiva di futuro. Quindi noi abbiamo preso questa scelta di scioglierci, di diventare un'associazione e l'associazione non a caso si chiama Compagno del Mondo, perché l'intenzione è di essere come singoli e subiamo, non più di organizzazione politica, ma più di organizzazione che sia il lievito di questo campo, di porci come elemento di ponte, di dialogo. Ecco, per questo, scusandomi per essere arrivato tardi, non potevo esimermi da fare un saluto, perché abbiamo cominciato io, Aurora e altri a fare questo lavoro di dialogo, di essere ponte all'interno del centro sinistra, quando abbiamo partecipato insieme a voi alla costruzione di come comune e pur dall'interno del PD io mi sento il dovere di rimenticare questo percorso e di far presente il mio impegno perché questo dialogo continui e intendo contribuire.